Dopo l'ultimo pareggio casalingo per la Torres è tempo di tornare a vincere, il calendario prevede per il Rosso Blu la trasferta laziale sul sintetico dell'Anzio Lavinio, quart'ultimo in classifica e scontri diretti tra le inseguitrici, l'Upa Frascati Casertana e Sarnese Turris, che potrebbero annullarsi a vicenda. Tutto facile ma solo sulla carta. Nel girone di ritorno l'Anzio Lavinio ha messo insieme cinque sconfitte e una sola vittoria, ma per il tecnico Rosso Blu Guglielmo Bacci i risultati non rispecchiano i veri valori della squadra. Io non credo mai a quello che si dice, credo solo a quello che vedo. Conosco questa squadra dalla cintola in su, dalla metà campo in su e a tutti i giocatori di qualità per la Serie D, per cui dobbiamo andare là e cercare di fare noi la partita e fare le cose in maniera come abbiamo sempre fatto, cercando di aggredirgli alti, non fargli giocare e con la nostra qualità prima o poi gli dobbiamo cercare di fare gol. Giovedì sul campo di Valledori a seconda nel torneo di promozione i Rosso Blu hanno svolto un'amichevole terminata 5-1 che è servita a testare le condizioni di Gianluca Croo al rientro dopo il lungo infortunio. Sarà lui a sostituire Vittorio De Carlo nel ruolo di centrale difensivo in un reparto che conterà anche gli altri due fuori quota, Madedu e Accardo sugli esterni, con l'alternativa Masa alla sinistra e Barroco a destra, e con il solo esperto Ida a guidare il gruppo. Angeletto Manzini sarà la coppia centrale con Pulino e Migoni sulle fasce e Nuvoli e Meloni a fare da terminali offensivi, pronto al rientro anche Elisai, Fermo e Box Carboni, influenzato. Mancano 11 partite e tutti quanti aspettano che la Torres faccia qualche passo falso. Noi dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, con la stessa intensità, la stessa voglia, la stessa abnegazione e lo stesso sacrificio. Dirigerà la gara Anzio Lavigno-Torres il signor Capone della sezione di Palermo.